e buon natale incredibile amici compagni e non compagni ed eccoci qui al video di natale incredibile tantissimi auguri a tutti voi che ci avete già sostenuto nonostante visualizzate e poi ve ne andate ed eccoci qui anch'io mi sono messo il cappello di natale e abbiamo addobbato anche lo stage in questo piccolissimo video di natale infatti in questo video non succederà assolutamente niente e sarà un tranquillissimo video di auguri e buon natale a tutti voi ecco e mi è cascato pure il pompon mannaggia la mignotta e non fa... scusa salutiamo il cameraman che è ubriaco perché ci ha fatto festeggiare una vigilia incredibile guardate quanto è il mio bellissimo mio cappellino che pure è cascato il pompon ma fa culo su questa... comunque non ci facciamo interrompere dei problemi tecnici nonostante il pompon è cascato è un po' scadente comunque guardiamo che carino sus incredibile perché giusto c'ha la testa grande e il pompon si legge meglio mannaggia mannaggia tanti auguri a tutti voi e a chi vede il video succhiate anche a natale ecco bravo sus che dice succhiate perché se non si succhia durante natale non succhia tutto l'anno comunque vi facciamo vedere come abbiamo dimmito uno stage incredibile guardate che bello questo albero di natale era l'ultimo rimasto in un negozio cinese non fate domande e poi qui abbiamo un bastoncino di zucchero non mangiabile e poi abbiamo dei peperoncini rossi per la buona fortuna che non c'entrano un cazzo con il natale ci ha portato questo camera ben maledetto e quindi abbiamo messo in line quindi incredibile guardate quanto per il nostro luogo e niente questo non ci siamo preparati niente siamo così come l'acqua cade noi parliamo ma questa frase l'abbiamo ditta nel video di one piece è importante di dire le cose una carezza assurda anche durante le feste e l'ora di niente vi vogliamo ringraziare ancora buon Natale a tutti voi amici incredibili uscirà qualche video anche durante le feste di meno perché giustamente il cameraman va in giro a fare cose e noi stiamo qua a scrivere i nostri copioni incredibili per gli episodi e volevo ringraziare per la pagina di abbiamo aperto la pagina instagram se vuoi dire sulla pagina di instagram incredibile dove metteremo le miniature dei video e faremo dei post del cazzo anche su instagram e niente cosa possiamo dire so se vuoi dire qualche altra cosa ai nostri followers in realtà no e tanti auguri speriamo che babbo Natale vi abbia portato quello che volevate ecco e basta che devo dire va beh sì infatti a noi babbo Natale non ci ha ancora portato un cazzo lo stiamo ancora aspettando quel vecchio ubriacone e ci dissociamo ovviamente dissociamento e lo sussiamo no babbo Natale è una brava persona e e e e bravo babbo ecco bravo sussiamo e niente e niente mangiate bevete siete contenti con questo Natale incredibile e non niente abbiamo programmato qualche video che uscirà dopo Natale prima di Natale i video speriamo sono usciti abbiamo aperto la pagina di instagram e ci vediamo a capodanno faremo un altro video simpatico dove parleremo che ne so di quello dei buoni propositi per il 2023 sperando che sia un anno migliore del 2022 dov'è lo sussi e bene 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 su maestà perché vede una cosa strana laggiù sussa è lui è incredibile questa cosa su maestà è vero è assurdo buon Natale amici io sono babbo Natale e ho bevuto quante volte è bello un babbo Natale su sussi sono emozionatissimo è vero sono messa nel codo versi babbo Natale è morto agli a babbo Natale è morto in battaglia quindi siamo curiosi di capire com'è il babbo di questo diverso infatti babbo Natale come è andato il viaggio è andato bene è stato faticoso fare il viaggio il 24 ma sono felice questo babbo Natale è proprio simpatico e io gli alzo la mano in segno di vittoria grande babbo allora babbo ci hai portato dei regali incredibili ho 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 ovviamente siete dei bravi ragazzi e quindi mi ho portato con questa voce non normale dei regali ho 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 ma quanto è simpatico questo guarda che panze incredibile che c'è babbo Natale mamma mia incredibile ssssss troppo però siamo più grandi noi di babbo però quanto è che è andato incredibile questa foto poi la metteremo su Instagram insomma cioè ditemi voi chi ha babbo Natale incredibile dai faccio vedere i regali babbo ho 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 Anche noi, altre entità Siamo capitati in questo universo Tantissimi anni fa Mi piace che Babbo Natale Fa Come io faccio Grande Babbo, give me five bro Mamma mia Scusa dei pezzi di Babbo Che è proprio un Babbo Che non vuol dire un cazzo però Va bene così Allora Babbo, incredibile Questa cosa che il Babbo conosce Godover è abbastanza sussa Voi non avete idea Quante cose del Godover Dei millenni sono arrivate In questo universo Vabbè Però insomma non è che hai ricordi Diciamo del Godover Ma quindi Babbo tu hai ricordi del Godover Ci puoi dare una mano a capire come siamo finiti Qui Io sono passato troppo tempo E chi si ricorda più Niente Scusate è ancora ubriaco Del 24 sera Comunque Dov'è i nostri regali incredibili Babbo Eccoli qui Ma insomma È un po' piccolo questo pacco Babbo Sei sicuro che quello è il nostro regalo Non è che hai bevuto troppo No È il vostro regalo È quello Che vi meritate Apriamolo un po' Mi è piaciuto il regalo Insomma sta c'è un problema Che cosa su dimmi Insomma sta c'è regalato una castagna E una pigna Babbo è qualcosa da dire Il Godover Dopo tutti questi millenni Ci caga in questo universo E tutti i tuoi problemi Babbo deve far rispettare le regole di questo universo Siete cattivi Quindi ecco il vostro regalo Succhiate Questa cosa non era prevista Noi ci aspettavamo che Babbo ci portasse delle cose Molto buone E magari un po' di successo per l'anno prossimo Su cosa ne pensi di questa situazione Che mi sta facendo un pochino incazzare E ballo Perché sono incazzato Su cosa ne pensi Penso che Babbo È effettivamente proprio un grande ubriacone E se dovevi rimanere così Babbo era meglio Che ci lasciavi le penne Come nel Godover Però Babbo sei fortunato Perché noi siamo famosi nel Godover Oh 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 in che senso Beh siamo famosi perché Quando noi siamo Facciamo le cose per bene Nessuno si fa mai male Ve lo so mai sta Esatto Nessuno si fa mai male E va bene Babbo è simpatico Ci ha regalato queste cose incredibili E allora noi ci accontenteremo E va bene Babbo è fare un agudo di buon Natale I nostri followers A meno quelli Oh 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 Allora mi raccomando Fate i bravi E non comportatevi mai Quindi cari ragazzi Non fate mai La fine di questi qui Che sono dei criminali Intergalattici Dovete scappare Da l'altro E vabbè È successo quello che doveva succedere E Camera mi ci fai un favore Ecco Vatti a prendere un caffè Molto lungo Me lo so Eh sì Vatti a prendere un caffè Molto lungo Molto lungo Caro cameraman Noi lasciaci lo stage Un attimo liberi Ok cameraman Vai tranquillo Sei un bravo Vai tranquillo Cosa? No non devi chiamare Un'autoambulanza Cosa? Tranquillo Tranquillo Non è successo niente Vai a prenderti un caffè Ma stai tranquillo Lascio la telecamera Quello non succederà niente Stai tranquillo Ma com'è il discorso babbo Che non ci ha portato regali? Oh 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 Voi scelte dei caffitti ragazzi Lasciamo sentare Oh anta di fondi Oh no 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 Ah ben tornato cameraman Noi volevamo finire il video Se non ti dispiace State tranquillo Babbo Natale sta solo dormendo Bene Buon Natale amici Vero su saluta buon Natale a tutti E mi raccomando fatevi bravi come facciamo noi Esatto E non fatevi mai truffare da Babbo Natale Anche se abbiamo più dubbi di prima Perché lui ci ha chiamato in modo sospetto Quindi qui c'è del sus Babbo rispondi Ok Babbo Natale E vabbè abbiamo perso Babbo Comunque buon Natale ancora E allora ancora buon Natale E che il miracolo del Natale sia vero Senza Babbo Natale Infatti ancora auguri buon Natale Saluta mavero incredibile Ciao ti sei riazzato La pagherete Lo spirito del Cosa succede perché sta tremando tutto Sus cosa succede sta tremando tutto Su me sta questa voce mi ricorda il Godverse Cosa succede Oh no Dio Cosa è successo Sembrava un'esplosione incredibile E si mi ha ricordato molto Quei pochi ricordi che abbiamo Di come siamo finiti dal Godverse Qui E' stata un'esplosione incredibile Oddio Guardate quel battardo di Babbo Se ne è pure andato Maledetto cameraman Che un brutto Natale per noi E non sappiamo neanche Che è successo Mannaggia Cosa Tutto bene Meno male che il cameraman Se moriva pure il cameraman Eravamo finiti Cosa c'è il cameraman No non devi dare retta alle accuse Di Babbo Noi siamo dei bravi ragazzi Eravamo un po' gangster Un po' rapper nel Godverse Però noi eravamo dei bravi ragazzi Ci devi aver confuso Con qualcun altro nel Godverse Tu non hai idea Delle entità malvagie Che c'erano nel Godverse E si alla fine Noi siamo dei bravi ragazzi E poi Babbo ci ha dato un po' Di mistero Suss Sì infatti Quindi Babbo Anche Babbo Natale Viene dal Godverse Abbiamo più misteri Di prima Il Godverse Succede Però che c'è Che c'è il cameraman Che cosa dici Hai fatto un regalo per noi Oh che carino Suss Ah vabbè dai Allora il regalo Ce lo fa il cameraman Che carino E' proprio un bravo ragazzo Infatti cameraman Dai facci vedere il tuo regalo Che dobbiamo fare Uno pronto Suss Così imparate a trattarmi male Cazzo Che vi riprendo E non mi pagate neanche Suss Hai detto bene Che ha detto questo bastardo Cameron Ti sei appena fatto la forza Insomma Sta a prendere il martello Adesso lo vado a prendere Brutto bastardo Di un cameraman Insomma Stasi fermi un attimo Suss Stavo per picchiare il cameraman Per questo dispetto Incredibile Che neanche tu Ci hai fatto un regalo Insomma Stai guardi Sto guardando il mio Suss cellulare C'è arrivata una notifica da loro E' incredibile Sono arrivati anche loro Ma allora era veramente il God War Fai vedere Suss Non so come sia possibile Suss Ma hai ragione C'è arrivata una notifica Da Vinite Guglienno Sono arrivati anche loro In questo universo E' incredibile questa cosa Ed eccoci qui Guardate come sono bello Mamma mia Sono bellissimo Sono fantastico Mamma mia Incredibili Come da quanto tempo Che non ci vediamo Ma per voi Forse è la prima volta Che ci vedete E mi stai di sì Noi siamo nuovi in questo canale Il Godoverse Però tranquilli Noi ce l'avevamo già da tempo Anche noi Come i nostri due cari amici Su se scherzo Veniamo Dal Godoverse appunto No Guarda che belli Su se scherzo Mamma mia Sono caduto Dalle emozioni Mamma mia Incredibile Loro sono bellissimi Io Vabbè Un giorno vi racconterò Un po' di cose Intanto ci presentiamo Che dici? Esatto Presentiamoci Io sono Benito Brambilla Esatto Il nome non si ricorda Ma io sono Benito Brambilla Benito Brambilla Ecco io sono un cuoco blu E io sono invece Guglielmo Sono un rapper Io lo check out Sono un rapper Come vedete Ecco come vedete Non vedete Una bella Cavolfiore Di Marzo E Quando non so cosa dire Dico cose a caso Perché Non voglio dire Cose che poi ci fanno Buttare giù il canale Sennò poi si incazzano Con me E su ste scherzo Giustamente Comunque sono Guglielmo Sono un rap E sono anche Un costruttore di caffè Ma non posso dirvi Per quale lavoro Per quale azienda Lavoro Perché altrimenti Strike E ban E quindi non si può fare E quindi Quanto parlo oggi Di solito sono timido Durante le telecamere Però con questa telecamera Strana Uno strano effetto Né vero Anche a me fa uno strano effetto E comunque niente Avete visto che è bello Mamma mia Il Godoverse è bellissimo E quindi noi faremo Insomma Aiuteremo su ste scherzo Ogni tanto Faremo pure io Noi con il video Dai Eh sì Eh sì Qualche video ci sta Insomma Per aiutare Se no fanno tutta soli Mannaggia Mannaggia Ed eccoci qui Insomma Addio Ci rivedremo Ciao Addio Oh mi sono salvato Per miracolo Quei maledetti E la pagheranno Quell'esplosione Cosa è stato Oh 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 E tu Chi sei Oh 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 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ci rivediamo Dopo tanti anni Ehehe Grazie.